cosa serve per rendere più efficiente un'azienda cosa serve per rendere più efficiente la tua azienda più tempo più soldi più obiettivi sicurezza stabilità controllo o innovazione evoluzione e passione serve integrazione semplificazione e relazione la possibilità di controllare i processi in modo semplice e veloce il mezzo per implementare rapidamente nuove funzionalità l'opportunità di rendere il tuo lavoro più agile grazie a odoo hai una piattaforma personalizzabile completa e sempre connessa con odoo può integrare fatturazione elettronica crm gestionale e commerce e qualsiasi altra funzione indispensabile con odoo hai un sistema open source libero ed adattabile alle tue esigenze insieme siamo cresciuti insieme abbiamo sviluppato innovazione e insieme vogliamo andare oltre con odoo italia centinaia di sviluppatori lavorano ogni giorno in una realtà internazionale per offrire alle aziende un luogo migliore per le persone per fare meglio in meno tempo per dare valore a ciò che conta veramente odoo italia a fianco delle imprese italiane a a a Grazie a tutti.